A corso 2.000 metri a posta perché secondo me la distanza è scadatta per il 2.100 metri e sono in 11 alla via Zuccherogetta, Davide Di Stefano, Zagabria San, Silvestro, Zephyr Dancer, Antonio Di Nardo, Zerinoz, Dario Battistini, Zatura Gasparello Verde, Zeus Forest, Giorgio D'Alessandro Senior, Zeus Di Cirifalco, Rene Legati in seconda fila, Zacapa Vitale, Zeus Boy, Lucio Becchetti, Zingaro Deventi, Enrico Bellei, Zadra B, Alessandro Colasanti, Zadra B con molta calma prende velocità la macchina, c'è la rottura di Zeus Forest e intanto davanti prova ad andarci Zagabria San attaccato da Zephyr Dancer, Zagabria e Zephyr alle prese con Zephyr che insiste e passa a condurre poi Zeus Di Cirifalco che si sistema in terza posizione allo steccato davanti a Zeus Boy e intanto si va al passaggio ai primi 200 metri che Zephyr Dancer completa in 15 e mezzo, viene via Zeus Di Cirifalco in anticipo su Zatura che ancora non aveva comunque cominciato la sua progressione, Zeus Di Cirifalco va sul leader che lo controlla e allora si accoda dopo aver scavalcato Zagabria San, resta scoperta a largo Zatura, la segue all'esterno Zingaro Deventi e così si arriva all'imbocco della seconda curva con Zephyr Dancer in vantaggio, Zeus Di Cirifalco di rincalzo a largo Ezzatura poi ancora Zagabria San con a largo Zingaro Deventi, quindi Zeus Boy in coppia con Zucchero Jet, ancora Zacapa e infine Zadra B completata anche la seconda curva siamo all'ingresso del passaggio di frontale tribune, primi 800 metri di Zephyr Dancer in 1,2 e mezzo dopo il 15 e 5 c'è un 47 tondo tondo, da 200 agli 800 iniziali e adesso si va verso il completamento del primo chilometro il gruppo si sta disponendo a coppie alle spalle del battistrada Zephyr Dancer che in tranquillità completa il chilometro sul piano dell'1,18 e mezzo misura comunque tollerabile. Bocco della penultima curva, Zephyr al comando, Zatura a largo in corda, Zeus Di Cirifalco poi ancora Zagabria in coppia con Zingaro Deventi e così si arriva a 800 dal termine il secondo chilometro inizia con un paletto in 16,6, Zephyr Dancer al comando, a largo sempre Zatura la mossa in terza di Zingaro Deventi, di dentro è Zeus Di Cirifalco, Zingaro Deventi prova a risolvere già a 600 dal palo va sulla coppia di testa, Zephyr Dancer prova a riallungare, nel mezzo c'è Zatura che prova a vendere il cara alla pelle ma Zingaro Deventi insiste, Zephyr che aveva denunciato qualche problemino finisce con lo sbagliare a questo punto Zatura cerca di rientrare a Zingaro ma alla fine deve riprendere in mano Gasparino Verde allora Zingaro sfila su Zatura, Zeus Di Cirifalco all'esterno, la retta di arrivo con Zingaro Deventi al comando poi Zatura e Zeus Di Cirifalco, 200 al palo, 14,6 l'ultimo paletto di Zingaro Deventi in chiara evidenza su Zeus Di Cirifalco poi Zatura, Zucchero, Jet e Zacapa prosegue al comando Zingaro Deventi e va a vincere davanti a Zeus Di Cirifalco poi Zatura al terzo posto, al quarto direi Zacapa su Zucchero, Jet 2,34,7 il totale, la media intorno all'1,17 considerando il parzialino forse anche un pelino meno comunque 2,34,8 sarebbe 3,4,7 sarebbe 17,3, 17,4 quindi o è 17 o 16,9 il tempo al chilometro per il vincitore Zingaro Deventi, Enrico Bellei, Gennaro Casillo, Labar Balbero e 2,51 di quota al totalizzatore grazie grazie